Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio di Sniper Elite insieme a Vale Ciao a tutti, mancato tanto tempo Uri Esatto, a quanto tempo siamo mancati un po' di tempo perché io avevo un paio di problemi con la registrazione Nel senso che a me che scriva video mi dava problemi con Sniper Elite e me lo faceva crashare Quindi dovevamo rifare la missione ogni volta da capo Questo perché sostanzialmente non ci sono dei checkpoint di salvataggio in una cooperazione No, non puoi salvare le partite su questo gioco E' un po' una cosa triste perché ci si mette ore e ore pure per arrivare un certo punto Esatto e poi... E poi se non la cacca, non puoi salvare E quindi inizieremo la missione subito dopo a quella che abbiamo fatto la scorsa puntata E io adesso ho una scheda video nuova, quindi gioco ad ultra invece di giocare a... tipo schifo Forse pure io sto giocando a ultra, lo sai che non lo so Ho sbloccato un nuovo fucile che è il carcano E Vale penso abbia sbloccato qualcos'altro perché è arrivato il velo quattro cima a me Quindi ho ovvio... Lo vuoi vedere come faccio a vedere? Lb armamento Lo faccio vedere il kit a cambiare Sotto sotto c'è armamento vale Ok c'è scritto... E poi adesso poi... Oh mio Dio, non capisco non hai niente, non ci capisco Ci sono tre, quattro, 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 quattro classi Ok, alfa, bravo, charlie, delta, tu c'è lì... Nuovo oggetto, mi dice il nuovo oggetto però non capisco È sbloccato Io per esempio ce l'ho cercato... Non mi sembra proprio di sì... Allora armamento... Oh figo Allora faccio classe alfa, modifica Ma poi modificare... Puoi modificare tutto? Che già hai... Io quando è fatto io ho più, ho già tutto pronto È nata tedesca con raggio, dispersione, dispersione è limitato C'è nata tedesca, vedi? Oh mamma mia... Ma io voglio la mina La mina è però di... No, è facile cambiare, ok Allora posso cliccare sull'oggetto e... Eh, posso cliccare sull'oggetto e c'è il... Cosa che vuoi Il cecchino Il carcano, pure io lo voglio provare Eh prova, ok Eh l'unica cosa è che tipo il mirino scilla di più rispetto al vecchio No, la pistolina non la cambiamo lì Eh no, poi la segniamo perché potrebbe essere... Ok Poi la benda, il medico Kit medico in teoria posso rianimarti se va giù e viceversa anche te Eh, boh, aspetta il reticolo di tiro nel carcano Ecco, potrei... Ah, questo è un bolt action Questo è un bolt action, vale Significa che spari e devi caricare Capisci? È tutta cosa, però da un certo punto di vista potrebbe essere anche utile Non fa nulla Ok, io sono pronto, quando vai? Spesso, spesso L'MP40 voglio usare, ok Ho cambiato un po' le armi Mi è lasciata, si è venuto in vera È una sorta di miterlete, 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 miterlete Ma se americana, quella mi sembra, sono sbaglio Perché l'altra era quella tedesca Lo contrario, non lo so Non saprei Ho fatto Vai, anch'io Ok 5, 4, 3, 2, 1 1 PAMMA Ok, ecco di nuovo i fumetti I fumetti mi mancavano Adesso carini Accucciati... No, riuscita la portazione nemica Allora, l'ultima parte tipo il tizio sta facendo pipì sul nostro vino Che brutta cosa Ah Sì Ok Dice accucciati nell'oscurità per non farti vedere C'è tipo il tedesco che sta facendo pipì Ma non siamo uguali? Eh no, in realtà adesso, tanto io sto No, come se... Io mi vedo? No, io vedo me... E' una cosa, uguale Tu vedi adesso la storia iniziale Ma tu ti muovi? No Ah Oddio, si era bugato per un attimo Ok Ok Va bene Sarà un problema veramente fare questa cosa, eh Sicuramente Ah Eccoci, guarda ci siamo Guarda ci vediamo Perfetto Ok Ok, sì, non siamo uguali, in effetti Tu sei più vecchio di me Eh sì Eh vabbè Anche nella realtà, quindi è possibile Va bene, sei vecchio BAM Guardi, guardi, guardi No, non corriamo tanto perché voglio... Ah, per secondo Ma non penso che su questo ponte ci sia qualcosa, qualcuno, quindi, io direi di camminarcelo E, qui, qualcosina, da qui, c'è delle barricate, c'è quel barricate, delle piccole cose Allora, qui non c'è niente, che cavolo c'è un bello Eh, quello che è noto, penso, abbia meno colpi dell'altro, di quello che avevamo prima Mi sembra l'altro, c'era 10, questo si è a 6, oppure 8, 10, non ricordo Comunque dobbiamo raggiungere quel punto qui, lì non c'è niente Facciamo un giro, allora, a questo punto, facciamo, vado a questa parte, dove ad all'altra Se vedi qualcuno, mi raccomando Oh, eccolo, eccolo Segnalo Ok Segnato Dov'è? Ok, più avanti, perfetto Solo quello? Sì, per il momento ho visto solo lui No, io ho due strade qua, quindi vedo un attimo quale sia la migliore, sinceramente Ok, sono riuscito a passare, non mi ha cagata di sinisciù, va bene Dove? Vicino da te a un'altra Ah no, che sta, quello di fronte No, non di fronte alla destra, quando passi da dove so passata io Poi, 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 poi Qui c'è una tenda, però non vorrei che ci fosse un'altra No, aspetta, aspetta, mostrescio Ok, ti arrivava dietro l'isone Oh, guarda Vale, mi sa, visto te Eh, allora, vale, vai dall'altro lato Vai bene, l'altro tizio, ok Aspetta un attimo Aspetta un attimo Alla fine, attenzione Alla bella cosa Prendi questo alle spalle Io vado a prendere quello lì Sono appostato E faccio E chi non li vai No, ma visto, ma visto No, 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 no Guarda che sei riesce a ucciderlo Prima che lui ti Cioè, prima che lui dia l'allarme E' a posto, cioè, tenesti cacchi E lo so, però E' un po' difficile, sinceramente No Ora come faccio a spostarmi Come un po' basso Aspetta che alzo Mi senti? Sì Ok, ti sento Ok, perfetto Allora, poi sono da dietro Dimmi quando ci sei tu anche da dietro a quell'altro Sì, me lo facciamo in combo, dai In sintonia, dai, dai Vediamo se succede qualcosa Io anche punto sei, sei dietro 3 Aspetta, aspetta, aspetta Sì, 2 Aspetta, vale Dai Vai ora Abbattimento avvicinato No, niente comu Oddio, oddio C'è risparmi C'è risparmi È morto L'ho ucciso Ti vedo Avessi dovuto vedere Come è morto Oddio, gli spavano Aspetta, però non vorrei Che mi Mi vado Il cadavere Eh, vale Cerca di nascondere il cadavere sotto il ponte Eh, non lo so se ci posso qualcuno Quindi, ma io farò Perché, perché si scondi il cadavere Sì, per cui si scipano in poi di munizione Anche se ne fatti non abbiamo fatto nulla Quindi Oh, oh, ne vedo un altro Ne vedo un altro Aspetta che arriva Ha tabbuto questo Stavolta Era inutile toglierlo Vale, hai visto? Eh, che dove mi abbiano sentito Aspetta Ecco lì, ci sono due Ce ne sono le viste adesso Eh, guarda che io sono Da tutto Da tutto Da tutto Da tutto Da tutto Da tutto Capito Se guarda Un'altra parte Oh, ecco L'ho visti L'ho visti Ce l'ho contrassegnati Ok, se stavano andando A vale Vedi dove sono io Sì Dove mi sa che l'ha visto Quella Vale ha visto il cadavere No, è possibile Abbiamo visto che Eh, io penso Non se l'abbia visto Perché No, non c'è Non è andato nessuno Lì c'è un altro Visto uno che passa Vale c'è uno lì Aspetta Stai andando a te Vale Vale sta arrivando da te Io scendo lo becco adesso No, non posso scendere di qua Che sono ti preoccupato Non ti preoccupare Non c'è nessun Sta venendo da me È contrassegnato Sono caduto Aspetta sono caduto E tipo il mio Six è spento No, vale Aspetta lo prendo io Lo prendo io No, aspetta lo contrassegno L'hai visto? Eccolo lì Bravo Vale Vedi L'hai sentito rumore Mi sa Se riesce a beccarla Sì perché Quando sono scesa Lì mi sono messa a correre Ah, ecco Spare secondo Allora lo becchiamo Non fa niente Non fa niente Perché se vien qui da me L'ho uccido In maniera silenziosa Quindi Si sta arrivando Infatti Sta arrivando Sta arrivando No Ok Ok Unciso Ma perché Spreghiamo munizione Quando siamo venne lì da dietro Perché Perché sì Perché è figo Uccidere la gente così figo Vabbè io sono sotto al ponte Ok Penso non verrà mai nessuno Dovrebbe essere uno sopra Noi dobbiamo andare dall'altra parte Vedi lì dove c'è 95 Dove c'è la cosa C'è molto molto stealth Sì sì Che vuoi fare Cioè Oh Ma davanti Andiamo andati qua Aspetta c'è uno sopra No sono sopra Te l'ho detto Mi ha sentito Mi ha sentito correre Porca vabbè Se non ci fosse nessuno Allora vale Dobbiamo andare un attimo A quella parte Però Che c'è Chi c'è Su Aspetta che lo Becco così lo vediamo Contrasegnalo così lo vediamo Cammino cammino piano Io volevo vedere un attimo Guardi davanti Io mi guardo alle spalle Però non c'è nessuno alle spalle Io so guardano Vai vale vale Sa qui Il tipo Ma le ce n'è uno C'è uno che ci ha visto Ha visto il corpo Ma non ha visto il corpo E' sì Gran Kaki Sarebando da me Sarebando da me Sarebando da me Sarebendo dai corpi Oh eccolo qui Fin alto Preso Ok vale Ok via libera Perfetto Mi ha visto Ha sceso giù E sceso uno Ha visto il corpo Quello che ti ha appena Segnato No è un altro Allora di lì Non c'è nulla Allora facciamo così Vale Oddio quanti ci sono lì Se come di passare Ascolta Se prende su tipo Alle spalle Dici che mi vede qualcuno Mi sembra che ce n'era Uno Però mi sa Quello che è sceso Quindi Ormai Tranquilla vale Fai tutto da sola Non preoccupare Ma è ormai Ma è ormai Ricciamo a beccare Quei altri due Che dovrebbero essere Gli ultimi Tu dove sei Qua Qua vale Come dicevo a beccarle Entrambi E devo voglio nasconderlo 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 Aspetta Vale Dovrei Riccarli in testa Entrambi Se voglio uccidere Davvero velocemente Non penso Di faccio Qui dai Io qua veloce Vale Arrivo Tentano farti vedere Vedete queste casse Mamma mia Allora vale Ok Vale Tu prendi questa a sinistra Io prendo questa Aspetta 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 Andiamo entrambi alle spalle No Oddio Ma sono Stupitini Questi Questi soldati Cioè È morto L'amico Accanto Non l'ha visto Ti giuro Sai tipo Oddio Guarda La serie Ma che me ne Ma scendiamoli Qua stivola Viene Siamo lì Da qualche parte Però Mi metto qua dietro Io Ma dietro qua Tanto nessuno Si dovrebbe cagare Vai via Ok Piano piano vale Che ci vedono Aspetta Ma ci vede il tipo No no Mi sono morti tutti Ah la vedetta La vedetta L'hai contrassegnata Dov'è? È lì Ah è verso uno Ok Non vorrei Che lì sopra Ce ne sia qualcuno Aspetta un secondo Per ora Non c'è nessuno Ok Si chiama Allora abbiamo fatto Stiamo arrivando Dal primo checkpoint Quindi ok Guarda che stanno La torre Che cos'è Un mulino Ma che cos'è Non di idea E' perforato Da tutte le cose Così immaginabili Presumo Sia un qualcosa Di brutto È presente Quando vanno I tocchi di magia In cui sanno Le versore Alla scatola Con la spada Io sanno I tronchi I tronchi Eh quella Non penso Diciamo a prendere No Non penso Neanche che ci vede Aspetta 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 Da qui possiamo anche sparare Eh no Vale ci vedono Non ci sentono Sì però Se ci vedono Vedono il corpo Oh vale c'è una C'è chi non C'ha visto No vale non c'ha visto Non c'ha visto vale Perché sta sparando Che sta sparando Perché lo contrassegno Vale vale ci ha visto Eh vedi Aspetta aspetta vale Facciamo una cosa D'ammazzino E' amazzo L'altro Pogliamoci Ecco lo vale Subito Fatto vale Vabbè Vale a spostarci E' a spostarci Però E' vale Andare più avanti Più avanti Facciamo un attimino Facciamo un attimino Vieni qua Vieni qua Ce n'è uno che Vale vale Servendo un altro Di qua Nasconditi Qua vale veloce Ah no se ti suoni lì Quindi verranno a trovarci Di lì Vale di qua Di qua Vale nonne lì Vai sotto qua Che bravo Brava Perfetto Allora aspettiamo Che arriva qualcuno Magari al massimo Oppure li distraiamo Facciamo arrivare Loro là Nel fatto E poi c'erano D'altra parte Che dici Non lo so Ok siamo riusciti A scappare Perfetto Abbiamo Depistati Ma di ce ne stanno Altri Presumo di sì Vai Aspetta il secondo E' un po Preso Ok vale Occiso uno Olli a riparo Olli 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 Aspetta il secondo Che c'è un altro Vale li sto beccando più che posso Cioè Vado Vado Dove si Le uccisi tutti Vale Davanti Le uccisi tutti quelli Stealth Porca Aspetta vale vale Devo un attimo Prendere questo corpo Metterlo Al sicuro Davo un secondo Vale Ho ucciso tipo tre persone Tutti in un colpo E penso di aver avuto la paura Più gratis La vita Divo Oh mio addio Aspetta aspetta Lo butto nella miniera Lo butto Va se non lo vede nessuno Buono Ma Qui in alto che c'è Aspetta 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 Sai che adesso Non ci hanno sentito Perché c'era il coso del rumore Porca vacca che figata Ok Che prego Aspetta 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 quello lì Ne hai visto uno Eh la vedete Vale vale Vieni con me Andiamo a dire lontano La faccia fuori No vale vale Non farla fuori Vale Non dobbiamo andare di lì Noi Torrenti Ah quella Io l'ho fatta Anzi Non si nasconde pure il corpo E poi perché C'è caduta Mi sentite Ce l'hai ancora Ce l'hai ancora Il corpo Eh ormai Aspetta Dove sei andato Io in qua Io in qua Abbiamo la prima Bisogna di qua Guarda Quando ho giocato Questo gioco Non mi è mai capitato Che il personaggio Si dancesse da solo Eh in effetti No Ho visto un tizio Vi sono ombra O che l'ombra Andiamo Questi sono i cari amici Li ho trovati qui per terra Dici Ciao 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 Aspetta Aiuto le granate in casa Non penso Se vi danno Se facciamo stealth Però Meglio Essere sempre preparati Allora Ancora Ancora dobbiamo sparare Il primo corpo col cecchino Io almeno Devo ancora Sparare Vabbè basta che non ci vado Non è importante Allora Valè Ma guarda 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 Ci contrassegna Di distruggere Oddio No no tranquilla È stata Adesso che passa L'elicottero Aspetta Mi è riuscito il simbolino Che si poteva sparare e dobbiamo distruggere in qualche modo l'armamento è però vuole fare un po attenzione perché siccome ci sono qualche amico qui sopra c'è e ci potrebbe vedere qui diamo il secondo vale che butto non può camuffare il mio sparo ecco ho visto una vedetta ho visto dammi un secondo male che distruggi che uccido questa e poi sono a posto perché se mai si muovesse abbiamo sotto beccato il beccato è però dover si elevano da lì e vale sto cercando di far ok pauli guarda io ci provo o vale c'è un altro aspetta si sa che si può saltare ma lei ci sono le scale aveva tutta la cosa come c'erano le scale ho trovato una cassa soldi vale un corpo vedi c'è una scala qua allora vale io ho visto un altro tizio ma io sono un'alternativa va bene lei mi stringe usa le scale io mi butto voglio vedere l'animazione della scala cioè cosa c'è cosa vale c'è un altro ne ho visto uno qui ok però non vorrei che ci vedesse allora ne ho un armamento ma vediamo un attimo se riusciamo a buttarlo giù comunque anzi vi saluteremo qui perché siamo già 16 minuti se volete altri episodi in cui vale ucciderà le persone in stealth mentre io tipo uccido tutti perché vale non lo so fare o senti ancora non c'è uno sgamato esatto fateci avere qui sotto nei commenti presto vi salutiamo ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao